Il dovere di informare e il diritto di essere informati in maniera corretta e pluralistica, oltre che a dignità, lavoro e libertà di stampa. Per difendere tutto questo, oggi sono scesi in piazza i rappresentanti delle sigle sindacali dei giornalisti. Il settore da un decennio sta soffrendo a causa della trasformazione del modello produttivo, con 3 milioni di posti di lavoro persi già nel periodo 2013-2018. I giornalisti scesi in piazza oggi hanno chiesto anche la salvaguardia dell'ImpG, il proprio istituto di Previdenza. Vogliamo aprire una vera e propria vertenza sull'informazione per tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati. Il mondo dell'informazione continua a vivere un lungo periodo di crisi, come tanti altri settori. Quello dell'editoria sta diventando veramente difficile nell'affrontarlo. Abbiamo un precariato dilagante, c'è uno sfruttamento attraverso l'uso sconsiderato del co-co-co che determina una condizione mascherata di sfruttamento. Con tutto il rispetto possiamo dire che nell'informazione purtroppo ci sono i rider dell'informazione, ci sono i braccianti dell'informazione, colleghi che vengono pagati 5 euro a pezzo. E poi soprattutto c'è la crisi che ormai dura da diversi anni e che attende delle risposte dell'ImpG, dell'ente previdenziale dei giornalisti. Noi abbiamo pagato in 10 anni 500 milioni di cassa integrazione e questi ammortizzatori sociali vengono finanziati dai contributi dei giornalisti attivi. E' completamente diversa la norma rispetto a quella dell'ImpG. Quindi noi chiediamo al governo Draghi di aprire un'avvertenza d'ampio spettro, dalla difesa dell'ImpG per poter risanare e portare in equilibrio l'ente di previdenza dei giornalisti, al problema del precariato, alla legge sull'eco-compenso, al problema delle querele temerarie. Perché un giornalista sottopagato non è un giornalista libero, è un giornalista potenzialmente ricattabile. Quindi chiediamo che si affronti tutta l'avvertenza del mondo dell'informazione, anche per quanto riguarda i finanziamenti. I finanziamenti non devono essere più a pioggia, bisogna finanziare le testate e le iniziative editoriali che fanno una sana e buona informazione. E quindi il governo chiediamo che trovi uno spazio per poter occuparsi anche del mondo dell'editoria e dei giornalisti, perché svolgiamo un ruolo fondamentale nella società. Garantiamo, siamo uno dei pilastri della democrazia, la libertà dell'informazione e l'indipendenza dell'informazione.